Eh, giornata difficile, eh? Già. Psicologia. È il tuo nuovo interesse, Sheldon? Era o questo o mungere le mucche. Oh, lo sai, una volta una mucca mi ha leccato. Hai fatto la scelta giusta? Non ne sono sicuro. E perché mai? Beh, dovevo osservare le dinamiche familiari durante il ringraziamento. Fare un'ipotesi e poi una previsione. Oh, capisco. Quindi, cos'hai osservato? Mamma e papà che litigano per il lavoro in Oklahoma e il trasferimento. Ottimo, concordo con la tua osservazione. Ora, riesci a formulare un'ipotesi basandoti su questo? Beh, il loro matrimonio è un gioco a somma zero. Quello che va bene a mio padre non va bene a mia madre e viceversa. Eccellente. E la tua previsione? Beh, sulla base delle suddette argomentazioni, mio padre cercherà di ripristinare la posizione dominante con un gesto simbolico. Davvero? Mi sembra un tantino eccessivo. Non metterò mai più in dubbio una tua previsione. Sei impazzita? Non possiamo permetterci una Ferrari? È una Fiero. Ferrari, Fiero, è la stessa cosa. Non direi. Ora ti dispiace, vorrei guardare la partita. Venite da nonnina, forza, forza. Andiamo. Non è la prima volta che litigano. Andiamo e basta. Dormiamo da te. Allora devo portarmi il pigiama. Dormi in mutande, no? Dormire in mutande? Ma che ti salta in mente? Ho dimenticato una cosa. Perfetto, così non dovrò alzarmi. Volevo solo ringraziarvi per la splendida cena. Volevo solo ringraziarvi per la visione.